Eccoci come ogni settimana ospiti di Guglielmo Frezza per avere qualche anticipazione sul numero della difesa in lavorazione. Oggi la nostra lettura virtuale, Guglielmo, da dove parte? Possiamo farla partire da una pagina che dedichiamo anche questo numero alla questione del 5 per 1000, di cui già ci eravamo occupati la scorsa settimana. Per ricordare una volta di più l'incredibile situazione che si sta creando dopo che il governo ha proposto, il Parlamento ha approvato in prima lettura alla Camera nel contesto della legge finanziaria, un taglio sostanziale delle risorse del 5 per 1000. Dal momento che è stato introdotto un tetto di 100 milioni rispetto ai 400 che l'anno scorso erano stati destinati, secondo le indicazioni degli italiani, al sostegno delle tante associazioni, onlus e iniziative che svolgono una meritoria opera solidale nel contesto sociale italiano e anche all'estero. Si tratta di un provvedimento che a nostro parere, oltre ad essere profondamente ingiusto, colpisce proprio e offende il senso profondo di una legge invece bellissima e offende anche tutti noi cittadini contribuenti nel momento in cui da un lato ci viene data l'opportunità di destinare una piccola quota delle nostre tasse al sostegno specifico di un'iniziativa e poi in realtà questo diritto viene tolto introducendo un tetto, a maggior ragione un tetto così basso come quello di quest'anno. Cerchiamo quindi in una pagina di approfondimento di vedere quali potranno essere le ripercussioni proprio sul tessuto delle associazioni che sono più attive in diocesi. Quindi uno spunto importante per tantissime persone che operano, per tantissime persone che ricevono anche i benefici di questo operare. Cambiamo argomento, vediamo se possiamo dare anche qualche anticipazione su quelli che sono gli appuntamenti in diocesi, ci sono degli appuntamenti importanti. Ma ricordiamo che questo fine settimana da un lato la nostra chiesa si stringe attorno all'arcivescovo Monsignor Antonio Mattiazio in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione vescovile. Quindi sarà un momento di festa e anche di ringraziamento per quanto ha fatto nei 21 anni ormai trascorsi alla guida della nostra diocesi. Poi c'è anche un appuntamento importante per il Consiglio pastorale diocesano che sabato è chiamato ad una mezza giornata di studio sugli esiti delle settimane sociali dei cattolici italiani. L'ultima edizione, la 46esima, si è tenuta in ottobre a Reggio Calabria. Ecco, la delegazione padovana riporterà quello che è stato l'esito di quelle giornate, gli scenari anche che sono stati delineati per l'impegno sociale e politico in senso ampio dei cattolici nello scenario italiano. Veniamo alle pagine dal territorio. Quali sono le sollecitazioni che ci proponi? Le pagine da non perdere? Ma io ne segnalerei almeno una, ovvero ad un anno dalla conclusione della grande missione cittadina che si è svolta a Piove di Sacro e ho visto coinvolte tutte quante le parrocchie. Le nostre comunità del Piovese hanno continuato a interrogarsi su come fosse possibile proseguire in una pastorale unitaria. Si sono date degli obiettivi che adesso stanno iniziando a mettere in campo, a mettere in atto. Soprattutto ci sembra di capire per quanto riguarda la pastorale giovanile, che forse è uno dei campi più delicati, più importanti e su cui le singole parrocchie, soprattutto quelle di piccola dimensione, fanno fatica a muoversi con efficacia. Ecco, ci sembra un bel messaggio quello che arriva da Piove di Sacro, di una chiesa capace di camminare assieme, superando anche gli steccati piccoli campanilismi che ci contraddistinguono, ahimè, tradizionalmente, proprio per ritornare ad essere evangelizzatori nel senso pieno del termine, per capire che la missione è anche qui e ora in questo nostro territorio. C'è anche un ritorno, che è quello della FISM, sappiamo che c'è questa collaborazione importante, questa proposta nuova che arriva dalla Difesa del Popolo. Sì, nel prossimo numero i nostri lettori troveranno in allegato Scuola Infanzia, che è il bimestrale, che viene realizzato in collaborazione dalla Difesa del Popolo e dalla FISM, e quindi dalla Federazione delle Scuole Materne della provincia di Padova. Sono 16 pagine a colori molto belle che hanno un taglio a metà tra l'informativo e il dossier di educazione, di materiali dunque che possono essere utili a quanti educatori, insegnanti, genitori si trovano ad accompagnare i nostri bambini in questi anni delicatissimi della loro crescita. Ed è anche un modo per ricordare lo straordinario, fondamentale contributo che le nostre comunità parrocchiali danno sul campo dell'educazione, grazie alle scuole dell'infanzia. Non va mai dimenticato, infatti, che oltre al 60% dei bambini veneti possono frequentare quello che una volta si chiamava un asilo, grazie alla presenza di queste scuole. Altrimenti l'offerta didattica, formativa dello Stato non riuscirebbe a coprire più del 30% delle attuali richieste. È un dato su cui riflettere tutte le volte in cui si torna a parlare della rivendicata parità del sistema educativo. Abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di genitori, si sta avvicinando il Natale, c'è un'attenzione della difesa anche a quelli che possono essere gli acquisti, i regali, quindi. Sì, come sempre, questo numero del 12 dicembre e anche nel numero della difesa del 19, proponiamo un inserto, sono 16 pagine dedicate proprio ad una serie di consigli utili per l'acquisto, con lo stile che ci contraddistingue come settimanale diocesano, quindi è giusto fare festa, è bello farlo anche mettendo tanti regali sotto l'albero, è bene farlo però anche con un pizzico di intelligenza. In questa proponiamo una serie di indicazioni per regali solidali, magari tanti dei nostri ascoltatori non hanno mai pensato che invece di un giocatolo o di una bottiglia di liquore si può regalare un contributo ad un'associazione per uno dei tanti progetti di solidarietà nel mondo, ma ci sono anche bellissimi regali solidali che sono frutto per esempio delle nostre cooperative sociali o che servono a finanziare associazioni, ci sono oggetti usati che trovano una nuova vita nel mercatino di mani tese, tanto per fare un nome e via elencando. E poi diamo anche una serie di consigli più semplici se vuoi, ma per esempio perché non tornare a riscoprire il legno per i giocattoli per bambini, tra l'altro sta tornando davvero di moda e si tratta di un materiale evergreen, come dicono le persone colte, vero che non passa mai di moda, che resiste, che duratura e soprattutto è sicuro e permette di sviluppare la fantasia dei nostri bambini. Bene, siamo curiosi allora di vedere anche questi consigli e di seguirli soprattutto, quindi Guglielmo intanto grazie e buon lavoro. Grazie a te e un saluto a tutti quanti i nostri telespettatori.